Il fatto che abbiamo un numero che non ha in allenamento non ha importanza perché ognuno ha il suo tempo, si ha la partenza, quando arriva lui segna il numero della macchina perché lo legge là sopra e il tempo che fa. Il numero 1 arriva per ultimo, per esempio lui che ha il 158 parte per ultimo fa la scuola e quindi 26.